Oggi presentiamo la nuova serie di Ami Yo Hero, nella specifica abbiamo gli 804, che sono Ami rossi, quindi ideali per l'innesco di tutte le esche che hanno questo colore, il bigattino rosso, il verde vaso e il lombrico. Nella specifica abbiamo le misure piccolissime, il 20 e il 22, che sono tantissime per l'utilizzo del verde vaso e del fui.